buongiorno buongiorno signora prego posso fare un reclamo certo qui è il posto giusto senta io ieri ho comprato questo termos da voi e non funziona come non funziona e non funziona e allora voi mi avete detto che se metto le cose fredde rimangono fredde se metto le cose calde rimangono calde ma non funziona mi scusi signora ma lei cosa ci ha messo dentro e che ci ho messo messo due caffè bollenti è un ghiacciolo il ghiacciolo si è non è la funzione e va bene si adesso vediamo un attimino lo portiamo a pepino meccanico si vanno